Ogni volta che ci sono le elezioni sembra di tornare alla guerra di Davide contro Golia. I partiti, soprattutto quelli che hanno fatto opposizione, come l'Italia dei Valori, l'unica forza politica che ha fatto opposizione dentro il Parlamento, ma che ha dei gruppi politici dentro il Parlamento, è che a norma di legge la Gcom, l'autorità per le comunicazioni, dovrebbe saperla bene se facesse il proprio dovere. A norma di legge spetterebbe a noi tanto spazio di informazione quanto spettano agli altri partiti. Bene, quelli di opposizione vengono nascosti, ghettizzati e tutti i giorni assistiamo a Berlusconi innanzitutto con le sue televisioni private in pleno conflitto di interessi, ma anche la televisione pubblica nazionale, la RAI, che dà la possibilità di dire la propria, di indicare i propri progetti a coloro che gli fanno piacere, a coloro che stanno nel sistema. Monti oggi è un candidato come tutti gli altri e come tutti gli altri deve avere il tempo che hanno gli altri a disposizione, né più né meno, e soprattutto deve essere messo nella possibilità di contestargli le panzane che racconta, perché dice che il sistema economico sta meglio, invece sta peggio, dice che le famiglie stanno meglio, invece stanno peggio. E allora noi chiediamo ancora una volta all'autorità per le comunicazioni di fare il proprio dovere. Chiediamo alla RAI, che è un servizio pubblico che abbiamo preso atto, anche quest'anno ha aumentato ancora una volta il canone, ma i cittadini che lo pagano affa sto canone, se serve soltanto per osannare il Dio in terra, quella di piccola naturalmente. Ecco, per questa ragione noi chiediamo che venga rispettato lo Stato di diritto o altrimenti denunceremo a livello nazionale e internazionale, anche la Corte di Giustizia europea, questa mancanza di democrazia di Stato di diritto nel nostro Paese.